Dovrebbe riprendere alle 22 la produzione del Ducato nello stabilimento Sevel di Atessa. La produzione è stata fermata nella giornata di ieri per effetto dell'ordinanza emessa dal prefetto di Chieti in occasione dell'ondata di maltempo con cui è stato interdetto il traffico ai mezzi pesanti su tutte le strade extraurbane e i tratti autostradali del territorio teatino. L'ordinanza è stata revocata dopo la riunione tenutasi in prefettura a Chieti nel corso della mattinata e consentirà di far affluire nuovamente i componenti che giungono in maniera quotidiana in Val di Sangro a bordo di decine di tir e che sono necessari alla produzione dei furgoni. Sono 6.000 gli operai lasciati a casa dalla Sevel, decisa tuttavia a recuperare i turni del lavoro perso. L'obiettivo infatti è arrivare a produrre 300.000 furgoni nel 2018, ricorda la FIM Cisle, quindi a 15 straordinari già programmati se ne aggiungeranno altri due come turni di recupero per il fermo produttivo dovuto al maltempo. Maltempo che in effetti non c'è stato almeno nelle proporzioni attese ma che paradossalmente ha manifestato tutte le sue conseguenze negative soprattutto sull'economia e non solo nel settore dell'automotive ma anche in agricoltura con le gelate di queste ore che rischiano di minare la produzione primaverile ed estiva.